Ragazzi sono Mario196, in questo nuovissimo video. Ragazzi, oggi nuovo episodio della serie del Geo Italia 2024 con Tadei Pogaccio. E' subito un bello che mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. E oggi, diciastresima tappa, tappa corta, c'è un 38 km, abbiamo l'arrivo in salita, che sarà il penultimo arrivo in salita del Geo Italia 2024. E quindi andiamo subito alla partenza di questa tappa. Ed eccoci qui, ragazzi, alla partenza di questa tappa, noi abbiamo preso Molano, siamo al metro a zero, dobbiamo mandarlo in fuga, prendere punti per la manglia ciclamino come in ogni tappa. Ragazzi, siamo a 4,6 km dallo sprint intermedio, l'unico di giornata, di questa tappa, siamo in questo gruppetto di unici corritori, c'è anche la Philippe, c'è il Vanderpool, il campione del mondo, c'è Thomas Pitcock, c'è Thomas Pitcock, attenzione. Siamo a 3 km, dai raga, dobbiamo vincere questa volata, assolutamente, per tenere punti per la maglia ciclamino come prendere il D con ogni tappa, e questo è il nostro, il nostro compito è questo. Quindi, andiamo subito a fare questa bellissima volata. Fuga che non ha preso tantissimo, comunque, non so se l'ho detto già prima. Comunque, siamo a 1 km allo sprint, tra poco partire la volata, che parte ora, attenzione, cerchiamo anche anticipare, questa cosa non va bene. Proviamo ad uscire ora. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Una potenza, qua, se passiamo l'ano, 20 punti. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Ed eccoci qui, raga, alla partenza di questa tappa. Raga, è la fuga, come potrebbe vedere in alto a sinistra, dove c'è la maglia rosa, il simbolo della maglia rosa. 15 minuti, la fuga di 22. Possiamo provare a sprintare per il 23esimo posto, praticamente, ma quindi non per la vittoria di tappa. Quindi direi che possiamo anche skippare un po', fino al meno 5. Così. E proveremo a giocarci la prossima di tappa, perché questa è impossibile, praticamente. 14 minuti e 39 secondi. Beh, la vedo... Un momento in cui c'è un bel like, ma quando a questo video, questo episodio XL, dove vi porterò 4-5 tappe. Attenzione a queste curve. E... Quindi, oggi, domenica 26 maggio, c'è la fine del giro reale, e c'è anche la fine della nostra serie, qui sul canale che vi sto portando. L'arrivo è anche abbastanza tortuoso. Comunque, siamo all'ultimo chilometro. Prima da sprintare lo stesso, c'è Vanderpool, c'è Philipsen, vuota lunghissima, c'è anche Van Poppel. E andiamo, raga, andiamo a che si fa di tappa. Ed eccoci qui, raga, il podio di questa diciottesima tappa è Oliver Nase in primo, secondo posto per Vare e Schold, e terzo posto per Perez. Andiamo alla sifica generale. Non è cambiato praticamente nulla. Vogliate quella della maglia Ciclamino. Molano, ok. Van Van Aert e Pogaccio. Quindi, andiamo ora alla diciannovesima tappa. Ed eccoci qui, alla partenza. di questa diciannovesima tappa nel Giro d'Italia 2024. Siamo al chilometro zero. Si parte già in un falso piano piano in salita. Raga, e siamo negli ultimi tre chilometri. E' partito Vingegaard. dobbiamo rispondere a quest'attacco assolutamente. Comunque siamo sull'ultimo carmine montagna. 6,9 chilometri. All'8% di andenza media. Qui siamo andato quasi al 10. Attenzione, siamo in questo... gruppetto di 11. Intanto riparte Vingegaard. Deve essere sì. Andiamo di sotto. Questa è una tappa dove, raga, non si scollina... o meglio, si scollina... ma poi c'è il... c'è un tutto un... su e giù. Un falso piano comunque arriva... per arrivare al... traguardo. Ed eccoci qui... ed eccoci qui allo scollinamento. qui ora inizia un tratto di... su e giù. Praticamente. Prepariamoci... per questo sprint... che parte ora. Tecnici, ma ci siamo, ci siamo. E va a vincere la tappa lo stesso, po' caccia. Ho avuto un problema, raga, con il pad. Raga, e dopo una volata... con un po' di... di... di problemi. Con un brivido finale, questa... questa tappa... riusciamo a vincere. Anche la diciannivesima tappa con Pocaccia. Secondo passo per Vingegaard, terzo passo per Rodriguez. Andiamo alla stifica generale. Eccola qui, siamo sempre maglia rosa. Siamo venuti a 26 secondi su Vingegaard. 11 minuti, 26 secondi su Mass. e andiamo alla penultima tappa, la ventesima. Questa, all'arrivo, comunque, dopo una discesa molto complicate, ma la tappa è abbastanza complicate. Quindi andiamo subito. e siamo a 4 chilometri dallo squinamento, dall'ultimo momento della montagna e dall'ultimo momento della montagna di questo giro. Attenzione, eh. intanto parte Tadei Pocaccia ci sono 4 colidori in fuga tra cui un colpetto di 3 con Fortunato e quello di davanti che c'è Vfangilz che superiamo ora. Dai dai, eh. Vorrei provare a vincere questa tappa ed è ad incrementare il vantaggio che ho sia su Vingegaard del secondo che sul terzo in classifica che è Mass. Quindi andiamo subito. Dai dai, eh. Siamo a 2 chilometri energie e non ne ho tantissime. Però il finale è tutto discesa praticamente. Quindi e qui prendiamo anche 8 secondi 20 punti per 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 la maglia del mio scuadatore qui discesa non prendiamo rischi e andiamo raga e andiamo siamo a 2 chilometri dal dal traguardo ultime curve qui finisce la discesa e siamo all'arco dell'ultimo chilometro ma mia signori Tadej Pogacar il dominatore di questo giro si va a prendere anche l'ultima tappa di montagna di questo giro di Italia 2024 e arriva a braccia alzate mamma mia signori e andiamo ora all'ultima tappa e dopo tutte le fatiche comunque del di tutto il giro oggi oggi in giro però proveremo lo stesso a vincere la tappa il nostro velocista in maia ciclamino che spettacolo signori e andiamo direi allo sprint prendiamo un po' di punti anche se comunque la situazione è bella che mi è ipotecata si ringrazia Pogacar per il lavoro svolto attenzione qui ora c'è un tratto in discesa eccoci qua e tratto in salita e siamo agli ultimi tre chilometri di questa tappa dai dai di questa ultima tappa e gli ultimi due metri e mezzo del Gio Italia 2024 c'è Van Der Poel a tirare il gruppo per lavorare per Philipsen c'è anche Jakobsen il campione europeo che ormai è l'ex campione europeo dai dai siamo all'ultimo chilometro partiamo con una vuota lunghissima veramente ultimo chilometro vuota lunga 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 raga ma ce la facciamo e andiamo raga ultima vittoria per Molano in questa ultima tappa del Gio Italia 2024 che spettacolo ed eccoci qui alle prime azioni vincitore di tappa quanti passi a Molano grande lavoro anche di Taddei ma questa maglia rosa che veramente ha dominato il giro ed ha aiutato anche il nostro velocista a vincere eccolo qua ed eccoci qua raga Pogacar il dominatore di questo giro dopo non vedete quante tappe ha vinto in maglia rosa spettacolo spettacolo piacciono anche le prime azioni comunque al termine di questo video secondo me ci sta poi raga maglia ciclamino per il nostro Molano poi miglior scalatore Barghil debba essere eh si trasferire il miglior scalatore Barghil la maglia bianca del miglior giovane dovrebbe essere Pogacar no? eh si Pogacar miglior giovane di questo Gio Italia dai dai qui c'è un po' il riepilogo di questo Gio Italia 2024 prima tappa Pogacar secondo posto seconda tappa scusatemi Johannessen terza tappa Grimai poi Molano la quarta tappa Philipsen la quinta Smith la sesta Van Aert la settima Carapaz l'ottava tappa Sanchez la nona Uzzinco Pedersen Van Aert Molano Van Aert la quattordicesima la quattordicesima Ciccone Pogacar la sedicesima anche la diciottesima Pogacar Oliver Nasen la diciottesima la diciannovesima Pogacar ancora anche la ventesima sono come abbiamo fatto in questo video e conclude Molano la tappa la la tappa eccole qua tutte quante le tutte quante le le maglie tutte quante le classifiche io direi per questa serie per questo video può essere tutto vi ringrazio chi ha visto la serie chi ha messo like commentato quindi per questo video e per questa serie può essere tutto subito un bel like e noi ci vediamo in un prossimo video bella grazie a tutti